Due finaliste, una leccese e una barese. Saranno, Casarano e Domnia Bitonto sul prato del Capozza a giocarsi domenica prossima all'atto conclusivo dei play-off regionali di eccellenza e a contendersi l'approdo al segmento nazionale, quello che di fatto metterà in palio la promozione in serie di eccoli i verdetti maturati al termine delle semifinali pugliesi giocate in gara secca nel domicilio delle squadre meglio piazzate a conclusione della stagione regolare. Fattore campo ad ogni modo rispettato in un caso su due per la precisione. Al Capozza nel derby salentino tra Casarano e Gallipoli vince 1-0 la formazione di casa a cui sarebbe bastato anche un pareggio sulla distanza dei 120 minuti per accedere alla finale pratica risolta anzitempo invece dagli uomini di Pietro Sportillo grazie a questa rete realizzata nei primi minuti da Rescio. Successo esterno 2-0 per l'Omnia che mette fine così alla favola della vetrana. Bitontini in vantaggio con Montrone dopo due minuti i Tarantini mancano l'occasione per il pareggio degli 11 metri con Cappellini ipnotizzato da Vitucci e non sfruttano nella ripresa la superiorità numerica per l'espulsione in avvio di Anaclerio nonostante l'uomo in meno è ancora all'Omnia ad andare a segno in pieno recupero con il solito patierno al 17esimo centro in questo campionato. Situazione ancora in stand-by invece per quanto riguarda i play-out l'incontro del lunedì scorso tra il presidente della FIGI Cipuglia Vito Tisci e i rappresentanti delle tre società coinvolte Barletta, Unione Calcio Bisceglie e Radeo ha prodotto infatti una fumata grigia tendente al nero. Tutto resta invariato, tutto dipenderà da quello che farà il San Severo nel campionato di Serie D. In caso di salvezza di Foggiani il Barletta sarebbe al riparo da eventuali sorprese e il play-out si giocherebbe naturalmente in gara secca al dilido di Biceglie tra Unione Calcio e Radeo. Un'eventuale retrocessione del San Severo invece escluderebbe dai giochi salvezza di Salentini e lo spareggio coinvolgerebbe al Manzichia Polini di Barletta, ai Biancorossi di Franco 5 e ai Bicegliesi.